Rudy, dove siamo oggi? Eh? Siamo a Pontecosi? Guarda un po', siamo al lago di Pontecosi. Ora, è un evento speciale perché questo lago qui l'hanno svuotato, guardate bellezza, questo lago è tutto vuoto. Per quale motivo? Per la manutenzione, cioè lo devono dragare e portare via tutto questo detritaio che c'è qua. Attenzione Omar, riprendi le prime telecamere al mondo che riprendano il lago di Pontecosi ormai svuotato. Omar, riprendi le prime telecamere al mondo che prendono anche il paese di Pontecosi, eccolo qua, il paese con la sua chiesa e qua c'è tutto il lago. Abbiamo avuto un permesso speciale per poter vedere questo lago qua. Attenzione Omar, riprendi. Omar, riprendi, eccolo qua. Questo è il pontile, guardate, è all'asciutto e questo è il lago. Io continuo a farvelo vedere e ora si va verso il ponte. Attenzione Omar, riprendi. Abbiamo avuto un permesso speciale per andare qui a Pontecosi. Guarda, eccolo là, Pontecosi. Ecco il ponticello che si vede. E qui ci sono le oche. Eccole qua. E tutto il lago che è vuoto. Ora lasceranno un'isola nel mezzo perché ci nedificano molti uccelli. E qui abbiamo le papere. Eccole là. Omar, riprendi. Attenzione perché potrebbero attaccarti. Omar, riprendi. Eccolo lì il ponte. Guarda, è bello il ponte di Pontecosi. Eccoci qua. Siamo sul ponte. Rudy, facci strada. Attenzione Omar, riprendi. Le prime telecamere al mondo che montano sul ponte di Pontecosi. È di là la chiesina che ora andremo a visitare. Attenzione Omar, abbiamo avuto un permesso speciale per vedere questa stupenda zona. Guarda, guarda il lago ormai vuoto. E laggiù ci lasceranno un'isola per farne edificare gli uccelli. Attenzione Omar, riprendi. Le prime telecamere al mondo che hanno avuto un permesso speciale. E ora andiamo verso la chiesina della Madonna. Attenzione Omar. Omar, riprendi. Siamo alla chiesa della Madonna delle Grazie. Attenzione Omar. Questa chiesina qui è spettacolare. Noi qui accanto abbiamo il torrente. Torrente di acqua cristallina. E anche qua guardate che bellezza. E qui abbiamo il ponte della ferrovia che passa di qui. Attenzione Omar, riprendi. Il ponte del Pontecosi preso dalla parte opposta. Attenzione Omar. Abbiamo avuto il permesso speciale. Abbiamo avuto le chiavi per aprire questa porta. Solo noi. Le prime telecamere al mondo che aprono la porta. Attenzione. Ecco fatto. Il permesso speciale. Entriamo dentro. Sono le prime telecamere al mondo che entrano nella chiesina della Madonna delle Grazie. Eccola qua. Guardate che bellezza. E là abbiamo la Madonna. Omar, riprendi. Le prime telecamere al mondo che riprendono la chiesina della Madonna delle Grazie. Solo noi. Omar, riprendi. Guarda. C'è anche Illumini. Attenzione. Abbiamo avuto un permesso speciale. Le prime telecamere al mondo che riprendono la chiesina della Madonna delle Grazie. Eccola qua. Omar, riprendi. Guarda. Questa è la chiesa. E qui accanto, vedete, c'è il lago. Noi siamo le prime telecamere al mondo che riprendono tutta questa bellezza. Eccola. Questo è il lago di Ponte Cosi. E lì c'è il ponte. E qui accanto abbiamo la chiesina della Madonna delle Grazie. Guardate bellezza di giornata. E ci sono anche le campane. Omar, riprendi. Le prime telecamere al mondo che riprendono le campane della chiesina della Madonna delle Grazie.